Quella di oggi è la giornata da Bollino Rosso su strade e autostrade italiane. Sono le ore del cosiddetto controeso, dei vacanzieri stanno lasciando o lasceranno a breve le località marine del sud in particolare e si ritornerà verso le grandi città del centro nord. Nel nostro territorio traffico intenso e in via di aumento presso le barriere autostradali sulla tre Napoli-Salerno il traffico è rallentato tra Nocera Sud e Salerno sia verso sud che verso nord. Coda alla barriera di Nocera Nord, traffico rallentato alla barriera di Mercato San Severino. Coda in uscita alla barriera di Salerno e quella di Napoli Sud, 4 km di coda tra Nola e il Bivio Milano-Napoli. Congestionamento del traffico anche nelle aree interne visto che ci sono comunque coloro che sono partiti per una giornata di mare o per il fine settimana nelle città balneari. Sulla A3, Napoli-Salerno, tra Nocera Sud e Salerno e verso Salerno c'è il divieto di transito dei mezzi pesanti. Il traffico dovrebbe aumentare in serata e nella giornata di domani sia sulla parte adriatica, provenienza in Puglia, che dalla parte dell'autostrada del Sole in direzione nord. È previsto traffico intenso per le prossime 48 ore almeno. Molto trafficata anche la A2 autostrada del Mediterraneo. È questo quindi il fine settimana di fuoco per il controesodo post-vacanze. Di contro c'è da segnalare che sono anche tanti coloro che stanno partendo proprio in queste ore per iniziare la loro pausa estiva e per quelli che sono in vacanza c'è stata anche una sorpresa non molto gradita. Anzi, parliamo del servizio delle vie del mare in Campania per raggiungere mete ambite dai turisti come le isole di Capri, le città della costiera Amalfitana e della costa del Cilento. Un servizio a metà per alcune delle tratte perché off-limits dai fine settimana. Le vie del mare attiva infatti da lunedì al venerdì, mentre risulta non fruibile il sabato e la domenica. I giorni più gettonati per le visite turistiche. Un'anomalia bella e buona.